Il sindaco del comune di Agropoli, Adamo Coppola, ha firmato apposita ordinanza nella quale dispone la chiusura dei locali della Movida alle ore 1 di notte. Tale disposizione ha durata fino al prossimo 7 settembre. Il provvedimento fa seguito all'ordinanza numero 66 dell'8 agosto del presidente della regione Campania, che riprende precedenti ordinanze, la numero 64 e la numero 55, e stabilisce limiti orari alle attività, ma differenziandoli per giorni della settimana. L'ordinanza del sindaco di Agropoli, invece, fissa a luna di notte per tutti i giorni della settimana l'orario di chiusura dei locali. L'alta concentrazione di persone, afferma il sindaco Adamo Coppola, che si verifica in determinati luoghi cittadini in orari notturni, può esporre ancora di più al pericolo di contagio. La situazione che si sta verificando nei comuni vicini, così come in tutta Italia, con una crescita importante del numero dei contagi, ci impone a tirare un po' le briglie e a osservare maggiore prudenza. Non da meno, poi, si sono verificate situazioni di intemperanze. Da qui la decisione di imporre la chiusura di tutti i pubblici esercizi in sede fissa e su area pubblica, attività artigianali, alimentari e di vicinato del settore alimentare con asporto a luna di notte, quindi un'ora prima rispetto a quanto stabilito dall'ordinanza regionale. Approfitto per raccomandare a tutti il rispetto delle prescrizioni anti-covid-19, conclude il primo cittadino Adamo Coppola.